Avevano creato un loro fortino di armi clandestine in un'abitazione del quartiere San Cristoforo. A scoprirli è stata la polizia nel corso di un'operazione condotta dalla squadra mobile per rintracciare un 25enne catanese che per una settimana è riuscito a rendersi irreperibile nel tentativo di sfuggire all'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla procura della Repubblica Etnea per espiare una pena di tre anni e nove mesi di reclusione per vari reati contro il patrimonio. I poliziotti sono riusciti a risalire agli spostamenti del ricercato individuandolo in una casa a San Cristoforo. Una volta fatta irruzione nell'appartamento gli agenti hanno trovato insieme al ricercato altri due giovani catanesi di 22 e 23 anni tutti arrestati perché colti nella flagranza del reato di detenzione illegale di armi clandestine in concorso. Infatti durante la perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto ben tre armi con matricola brasa e due di provenienza furtiva oltre a numerose cartucce. Gli agenti hanno anche trovato sempre nella disponibilità dei tre catanesi 175 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contanti di 1500 euro in banconote di diverso taglio nonché materiale per il confezionamento della droga. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e nei loro confronti si è proceduto anche per i reati di ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Espletate le formalità di rito i tre sono stati condotti nel carcere di piazza Lanza.